buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a forno in capitolo 4 stagione 2 ed oggi finalmente abbiamo nel negozio oggetti le due skin che fanno parte del set di Spiderman, Miles Morales e Miguel Oana ecco qui il video finalmente dopo aver fatto i scarichi per scaricare i romantelli e le morte ho la possibilità di riscattare a un prezzo scontato le due skin la stella B che incivano a rimessare il primo gioco e sono Miguel Oana e Spider-Man 2019 e il nostro finalmente nuovo anno Miles Morales e sono arrivati nel gioco anche gli spara ragnatele con un finale di stagione davvero scoppiettante dopo l'evento in collaborazione con Star Wars appena concluso vediamo nello store le due skin ed eccoci qui se avete completato i 40 punti e avete riscattato il martello, le motte e gli spray avrete lo sconto a 1600 euro e si 1600 Wubux per quanto riguarda tutto il set di Miles Morales che comprende due skin, due zaini e due picconi schermata di caricamento e l'emote integrata con il martello di Miles Morales quindi davvero davvero belle bella questa texture mezza fumettosa il martello di Miguel mi fa impazzire però la skin di Miles davvero davvero bella seguite tutto il video perché a fine troverete il codice per riscattare la skin di Spiderman tratta dal fumetto Guerra Zero che è uscita l'anno scorso con la rana fumetto in collaborazione con la Marvel che è la skin che abbiamo appena visto quindi andate sullo store il primo e il più veloce si aggiudicherà questa skin davvero davvero carina quindi se è il codice dovrebbe apparire ora eccolo lì segnatelo andate sul sito nella sezione che scatta codici e fatemi sapere chi è il fortunato noi ci vediamo nel prossimo video ciao